Buongiorno e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo un nostro nuovo volantino dove troverete una selezione dei nostri prodotti, alcuni di quelli che hanno più successo e altri nuovi appena arrivati, aggiunti tra le nostre proposte. Potete trovare la maggior parte dei nostri prodotti nel sito web www.elettronicadidattica.com. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo con un nostro prossimo video. Saluti da Elettronica Didattica. Grazie a tutti.